benvenuti eccoci benvenuti sabrina e paola ciao ciao benissimo prego paola emozionatissima sudanza è anche la mia prima videochiamata importante allora io nei punti che avevo messo il discorso che sono allergica fortemente ai gatti e anche alla polvere o meno ai cani però insomma tendenzialmente arrivo un asma a un asma soprattutto con i gatti dove non respiro più proprio una cosa bella tosta poi un'altra cosa ragazzina tra negati che sono arrivati dopo io l'ho scoperto da ragazzina perché verso d'adolescente sono arrivata in una casa dove c'era un gatto e devo dire che io i bambini piccoli e gli animali vengono da me insomma una forte feeling con gli animali quindi questo gatto che era di casa poi è diventato mio sai che gatti poi gli animali ti scelgono poi lui era comunque un gatto libero andava e veniva ed era un maschietto e mi hanno detto che poi i maschietti una volta diventati adulti facilmente spariscono di fatti questo gatto a un certo punto non c'è più stato dopo poco tempo ho trovato un gattino piccolo l'ho portato a casa e da lì mi ho scoperto che ero allergica perché mi è tornato il raffreddore che prima pensavo che fosse alto per i miei mi dicevano sempre che non mi vestivo abbastanza che invece era il discorso del gatto ok 22 e oscillo tra sentirmi grande di essere una persona diciamo più evoluta più più avanti non so neanche come definirmi a poi sentire invece piccola invece in tre agli altri nel sentirmi grande avevamo individuato a con un'amica la parola sprezzante nel senso che io ho fatto prima nelle persone sono i difetti invece che le parti forti le parti deboli e questa cosa mi dà molto fastidio anche a far che non non è sana non è giusta e quindi il discorso poi da sentirmi piccola anche il discorso di avere un'autostima bassa e sentirmi insicura ok 3 terzo punto è una domanda penso di avere memoria scarsa soprattutto sul discorso di date dei tempi ma è anche vero che non ci metto a attenzione non metto attenzione a quando è successo una cosa piuttosto che un'altra quindi mi chiedo se è un problema cioè una cosa che non interessa a me quindi non porto attenzione non la memorizzo o se in effetti c'è qualche problema a livello di memoria questo da sempre devo dire grado che fa una peggiorata il quarto punto è la solitudine e la sensazione di non piacere e o ti odiano ti amano esatto quindi ho segnato io però ricordo che ti avevo scritto questa cosa mio marito mi dice sempre tu ci sono mezze misure o ci sono persone che ti amano pattuamente o stai sulle balle poi il quinto e leggo perché non mi ricordo non ho ripassato sento che prima di quest'ultima vita terrena stavo a terrena stavo molto meglio qui tutto mi risulta gratuitamente complicato e pesante questo è il punto che hanno tutti no che tutti se ne vogliono andare che se non stanno bene quindi è un po non lo so se di tutti cioè di tutti forse certe per le persone che sapevoli esatte non ecco anche lì non voglio darmi delle arie sembra che la maggior parte delle persone non si pone no 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 tutti quanti che mi contattano diciamo ok hai aggiunto poi dei così dei punti jolly che se vuoi possiamo anche analizzare se capita insomma e tu sostieni che sono argomentazioni visto che visto tanti miei video argomentazioni che non sono poi state così tanto affrontate come cellulite verruca dolore piede destro fame di di dolci e vena varicosa alcuni sono tuoi no quindi vena varicosa ruca veruca dove la verruca che poi non so neanche dirti se è una verruca ce l'ho qua e questo ce l'ho da sicuramente da una ventina d'anni ogni tanto prude una sensazione di di come se lavorasse che attiva e si è leggermente ingrandita in vent'anni ma neanche esageratamente però potrebbe essere interessante vedere ok ho scritto scusa se ti interrompo se disincarnato se possibile la mamma che è morta a novembre recentemente e se può assistere mio marito non ti ho ma allora i viventi è inutile farli assistere in eterico in quanto tuo marito può vedere poi la sessione vediamo vediamo se si presenta ma noi non li chiamiamo più viventi io li chiamo più viventi perché se se nella carne loro non hanno intenzione di vedere le sessioni e non sono interessate queste cose non lo sono neanche in eterico sta tranquilla si presentano proprio quindi è una fatica che non sprechiamo più di farlo però se sabrina vedrà figura maschile analizziamo chi è se tuo marito ben venga insomma certo qualcun altro sabrina chiavi il famoso gatto potrebbe essere gatto non quello l'aria che scappa beh adesso ne ho un altro perché abbiamo preso un gatto per la suocera e abbiamo preso un gatto siberiano che dicono che meno invasivo e logicamente anche lui ha scelto me quindi in pratica quindi adesso hai a casa un gatto giusto ma vai bene anche questo perché io ho fatto la gattaiola lui esce dietro ci sono le campagne non è una presenza costante però quest'estate ne avevo preso un altro perché io li adoro e ho dovuto darlo via perché non mio marito voleva ricoverarmi all'ospedale una sera perché proprio avevo più il fiato era messa malissimo e quindi per fortuna ho trovato subito una signora che lo ha preso ok però per me questa è veramente se non ne avrei 34 invece non posso dice che gli sphinx senza pelo siano un po meglio ma in realtà l'allergia è data dalla pelle non esatto dalla saliva dico la saliva però qualcuno che allergico al gatto è meno e meno impattante con gli sphinx mi sembra comunque va bene passerei da un gatto pelosissimo cosa che si dice degli animali e che in teoria per vincere la l'allergia bisogna avere averli infatti lo vogliamo piano ce l'ha perché max la adesso ha quasi quattro anni quindi quando ho preso la roxy forte anch'io di questa pensiero vedrai che non c'è problema invece morivo e proprio mi si chiude tutto pian pianino e non è proprio una cosa tremenda ok paola iniziamo iniziamo io il microfono e te lo ti chiedo di attivarlo a fine sessione così ci racconti come utilizzati voglio sì 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 ok adesso dovresti vedere se disattivata dovresti vedere quell'icona l'altra che del microfono barrata mentre quella del centrale della camera non toccarla ovviamente bene sabrina come va con la luce benissimo da ben ben sicura si spegne non è un problema va bene va bene va bene mi vedi bene mi vedete la vento ok stiamo registrando continuando a registrare e quindi sabrina inizia a rilassarti concentrati solo adesso sul tuo corpo respira al ritmo che più ti conviene e senti che il tuo corpo diventa sempre più pesante e man mano che conto il tuo corpo diventa sempre più pesante 10 9 i tuoi piedi sprofondano nel letto 8 la pesantezza del tuo corpo sale dai piedi fino alle ginocchia 7 i fianchi sono pesanti e ora tutte le tue gambe sprofondano lentamente nel letto 6 5 5 il ventre ed il petto sono sprofondono anch'essi nel materasso 4 tutta la tua schiena pesante 3 le spalle tutte le braccia sono pesanti 2 il collo pesante 1 la testa sprofonda nel cuscino bene sabrina dimmi adesso se vedi paola si la vedo la vedo da quando abbiamo cominciato il conteggio in realtà e la vedo con la fisionomia di adesso che da lontano iniziava a salutarmi già da quando abbiamo iniziato il conteggio tu sei in piedi lei è in piedi e io sono in piedi si lei è in piedi che mi saluta così da lontano un po lontano però a leggere è lontano è come se un pochino è restiva ad avvicinarsi a questo video ad avvicinarsi ok chiedile di avvicinarsi e di dirti se ti dà e ci dà il permesso ad operare in sua vece allora si è arrivata e mi dà tutte e due le mani così mi tende le mani e io gliele prendo e fa così con la testa tu l'hai toccata quindi e lei si è lei ma da prima da subito come mi sono stesa e ho chiuso gli occhi ho iniziato subito a percepirla vederla insomma il conteggio ti ha aiutata sì tanto sì ma aiutato sì anche se ero già come ho detto già la vedevo collegata anche se collegata ti ha aiutato così a rilassarti di più assolutamente sì ma per me permessi ok indipendentemente dalle interferenze paola vedi qualcuno allora in questo momento vedo due gatti ne vedo uno a destra di colore arancione e uno a sinistra di colore nero e poi dietro di lei vedo vedo un uomo un uomo però non riesco ancora a capire chi è il gatto rosso chiamiamolo il gatto nero sono gatti morti o vivi ora quando me l'hai detto ho visto due leon due felinoidi due leoni quindi non sono gatti sono entità sì e l'uomo chi è adesso vedo un rettile sempre questa doppia cosa che ho io che si tipo l'ho gramma tra di confusione insomma per confondermi tra un rettile uomo distinto mi veniva da dire il padre all'inizio però poi quando mi è avvenuta questa cosa ho visto questo credo però non lo so mi è venuto prima il padre e poi quando ho visto questo io con un gesto del viso a paola è morto non c'è più ok sì sì ok paola ha chiesto però che si presentasse la mamma chiamiamola subito allora mi arriva una signora subito è arrivata e da questa parte sempre a destra la mia destra con un mattarello in mano quello per per fare la se e con un grembiolino come se stesse lavorando facendo proprio la la pasta mi si presenta così pare che sia in che la facesse perché paola sta anduendo ok no è lei sono sicura mi sono avvicinata e lei vuole assistere alla sessione della signora si è sorridente contenta e vicina quando si è contenta nel senso aspettava mi dice cioè lo aspettavo volevo gatto rosso gatto nero felinoide rosso felinoide nero chiamiamoli gatti chi è il capo allora di questi due mi viene da dire il rettile che si è presentato insieme al padre e quindi non è un rettile perché rettili sono sotto i felinoidi quindi prendiamo questo rettile e diciamogli di presentarsi con le sue reali fattezze in sta interferendo con paola è obbligato a farlo allora scusate ho visto e mi si presenta un è un umanoide cosa hai visto mi si era era come se la si fosse spenta e poi c'è come se così è così però erico parte a questo qua l'umanoide come si permette a toglierti a come dire a passarti davanti a darti la sensazione che la luce non sia più sui tuoi occhi mi dice così di confondo ti distrago ok allora entro anche io nella scena lo mettiamo in una cella frigorifera questo umanoide e da lì risponde alle nostre domande come si chiama jason ok è il capo dei felinoidi ok il capo di jason chi è mi compare sempre l'aquila che io percepisco comodino chi è il capo di odino mi è arrivato zeus che è il capo di zeus noi va bene causa esoterica dell'allergia ai gatti allora mi arriva che lei è molto legata alla parte la sua parte eterica cioè nel senso è molta parte eterica e essendo i gatti comunque parte eterica attiva è come se in realtà lei volesse avere questo collegamento con con i gatti per per diciamo avere una consapevolezza maggiore da come un intralcio l'allergia è come staccati dalla parte eterica insomma che invece comunque parte importante per lei ok quanto incide la parte eterica sul totale e quanto la parte subliminare di paola mi viene da dire che 70 per cento parte eterica il restante subliminare ok causa esoterica dell'allergia al pelo dei cani e mi viene la stessa cosa e mi viene la stessa cosa la stessa motivazione però più forte per i gatti in quanto il gatto è diciamo più collegato al mondo sensibile insomma però la motivazione è la stessa perché comunque anche il cane anche in quanto animale come tutti hanno parte eterica piena parte eterica solo e quindi è un collegamento più forte ecco ok causa esoterica dell'allergia alla polvere è una rivoluzione al mondo mi viene da dire mi percepisco come se come se comunque ci sia un non stare non stare non stare bene il mondo una rivoluzione si acquistava quello che è sporco no sì una forma di sporco ok quindi non sono gli acari no credo sia proprio una cosa ovviamente fisica però molto diciamo l'anima che che lo vuole questo è la sua parte subliminale mi viene così ok quindi la sua parte subliminale non vuole stare qua come lei ci ha detto nel punto in cui appunto ci parla della sua mi viene mi viene che mi sta dicendo lei adesso dice non ha che non vuole stai qui faccio difficoltà perché diciamo c'è poca comprensione e quindi lei non c'è non è compresa come dicevamo appunto anche prima perciò vorrebbe vorrebbe diciamo una dimensione un mondo dove ci fossero più persone che con la sua stessa visione e vibrazione consapevolezza insomma perché non lo crea dice quando sto di lassi mi dice così cosa di qua e dice che comunque dovremmo farlo tutti insieme perché non dipende solo da da una parte subliminale ma mi sta dicendo dovremmo farlo tutti noi tutti insieme perché non lo facciamo nel senso che qualunque sia la risposta la responsabilità è sempre solo della parte subliminale che l'unica inventrice di questo gioco fallato di fatto quindi qual è una spiegazione oltre alla propria inettitudine di fatto che abbiamo perso abbiamo perso come si dice le redini nel gioco c'è un responsabile una compagine di più e parti subliminali che è responsabile di preciso migliani di no è che in questo momento vedo che le parti subliminali che non lo vogliono o che comunque non è che non lo vogliono che non lo sanno proprio sono troppe rispetto alle parti subliminali che invece ce lo vogliono e ne sono consapevoli quindi non riusciamo a messe sulla bilancia vincono in questo momento loro ecco con che i percentuali ma noi siamo a me viene un 20 per cento e l'ottanta non vuole il 20 vuole l'ottanta non vuole mi viene così e paola fa parte del 20 certo sì sì ok causa esoterica della scarsa memoria specialmente per delle date anche importanti mi è venuto subito che c'è un colonia da qualche altra parte mi è venuto subito quando domenetto causa esoterica della scarsa memoria perché è come se fosse lei fosse distaccata tanto partendo dal presupposto che adesso mi sta arrivando anche quest'altra cosa lei dice il tempo tanto non esiste io non perché devo ricordare cose che non per me non sono importanti e poi vedo un clone che sta su un pianeta che più che clone vedo un ibrido mi viene da dire playa di qualcosa comunque legato il loro quel mondo lì maschio femmina femmina se le assomiglia però è allora ciao una tuta blu ed è molto più alta un pochino più alta capelli biondi lunghi però si assomiglia testa età più anni meno anni no ti peggio piccola vent'anni è stata creata vent'anni fa no messa la grada da da prima di vent'anni mi viene una linea per la verità ok non di meno ma di più quindi in anni umani è 25 anni fa ma è una persona che dimostra vent'anni a vent'anni magari vent'anni calcolati su questo pianeta x no adesso scusami la vedo che cammina in mezzo a una sorta di di natura di questo pianeta che mi è venuto playa di ma la vedo su una come se ci fosse un fiume che lei cammina lungo questo fiume con degli alberi similari ai nostri ma più più compatti vi uniti senza grandi fronde più più contenute e lei lo sta mostrando che percentuale di paola c'è in questo clone in clone che ha un nome shanna mi dice shanna percentuale di dna eterico mi viene 20 per cent ok shanna ci vede ci parla e adesso sì in realtà è lei che non so lei che mi stava facendo vedere che esiste che qual è il suo compito perché è stata creata è come se viene mandata a studiare è una sorta di ricercatrice della natura mi viene così infatti ecco perché mi stava mostrando la natura lei studia la natura studia il corso del della crescita delle piante mi fa vedere l'acqua questa sorta di fiume che c'è ma cosa prendono può farlo da sola perché è stata creata con dna eterico umano perché è perché sennò l'anima non ci va e l'anima è quella che prova le emozioni quindi la natura e le emozioni c'è la natura è legata all'anima no mi sta dicendo quindi senza parte subliminale non avrebbe la stessa sensibilità per per arrivare a delle scoperte che senza anima non potrebbe arrivare diciamo che un bel giochino questo per togliere l'anima ogni tanto a paola chi è che ha generato ideato questo giochino è felinoidi il felino e se per la stessa storia ok causa esoterica della cellulite sinceramente non mi viene causa esoterica non vedo penso sia un motivo o genetico comunque fisico legato a non legato a situazioni esoteriche non mi viene nulla peruca sul viso è strano perché quando me l'hai detto mi viene come se questo felino li fa così sulla 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 verruca su quel punto dove lei ci ha indicato prima un impianto essi tolto dalla bocca dolore piede testo allora mi verrebbe mi sono venute due cose uno un impianto anche lì e due quando mi hai detto dolore al piede destro ho avuto subito la al collegamento con il clone come se dipendesse comunque da da questo clone qui fosse collegato al clone questo dolore distanza fa a me incontrollabile soprattutto di dolci mentale mentale non mi viene sempre mentre parlavi mi è arrivato subito mentale nel senso legato comunque a un a uno sfogo non legato a causa esoteriche ma prettamente di mente quindi fisico comunque come se diversasse forse tutta questa panoramica in uno sfogo apparentemente che ti fa sentire bene al momento diciamo quindi comunque mentale vena vari cosa è impianto ok guardiamoli tutti gli impianti guarda sabrina paola dall'alto una distrazione dall'alto basso ora passo in alto come poi me li sta indicando lei in questo momento mi sta vabbè la la verruga che dicevamo il piede l'abbiamo detto l'avena varicosa e mi indica la pancia qua sotto terzo le ovaglie diciamo a che serve quello per te le abduction e per delle asportazioni di rovoli più o meno quante sono l'abduction se vedi un numero al mese all'anno in totale come vuoi me ne vengono tre al mese però mia neanche che in questo momento ho visto lei che come mi faceva così come se mi diceva io me ne rendo conto se me ne accorgo cioè come se lei lo sapesse sì sì perché loro permette se lei lo sa perché mi dice non so come fare a non farlo io adesso devo impararlo mi dice così però però lo sa ok quindi sono a dacson sì poi altri impianti da prima che mi viene il seno destro non lo so prima pure un lavoro già visto poi mi sono persa per parlare di altro seno destro e basta ok c'è una causa esoterica al fatto che paola è caduta non c'è più nella conversazione ma vedrà il video quindi non passa non succede niente ebbè sono arrabbiati in in questi qua tutti quanti proprio li vedo come hai detto c'è una causa esoterica per la caduta della chiamata ho visti tutti imbronciati tutti e lì carini si colpa loro certo che sono loro gli impianti sono finiti sono tutti questi sì sì anche non abbiamo individuato qualcuno li abbiamo nominati e li nomineremo alla fine nella fase di pulizia va bene causa esoterica della solitudine del fatto di non piacere alle persone o di piacere alla follia quindi la odiano la mano odi e tamo sempre collegato al discorso che facevamo prima nel senso lei non sta bene qui in quanto non è la percentuale di persone di anime consapevoli sono poche e un po anche la cosa tipica come dicevo prima delle persone che hanno compreso come se veniamo marginati no e quindi non si trova bene e perciò automaticamente arriva la sensazione emotiva della solitudine quindi sentirsi incompresi non non in sintonia con come vorremmo come lei vorrebbe perché poi mi viene da dire che lei vorrebbe e ci sono anche mi sta vedo sempre lei che mi che mi dice che mi parla e ci sono anche dei momenti in cui comunque mi viene da dire come sapesse dei picchi di grande emotività e serenità felicità non lo so e poi momenti di sconforto solitudine come se passasse da una cosa all'altra senza diciamo avere ancora visto la dimensione di mezzo no esiste comunque c'è anche se è complicato è complicato ma cosa capita quando una persona la odia così a prescindere da tutto o la ama a prescindere da tutto mi viene da dire quando metto la odia è lei perché sono le interferenze lei ha una forte mi viene che è molto comunque una vibrazione molto alta no che dà fastidio comunque a determinare la massa eh sì e quindi è come se va in in dissonanza con con le persone che non hanno la sua stessa vibrazione energia e che sono poi il 90 per cento nella fine non è che sono un po di più e a viceversa quando invece la viene riconosciuta esatto è per quello è per proprio per il suo la sua attitudine a una vibrazione comunque così di valta quindi la consapevole a quanto vibra paola adesso mi viene 500 milioni adesso ok generalmente perché l'avevo visto è a 250 milioni ok cosa ti dice l'espressione odi et amo mi è avvenuto che si annullano cioè che sono due due espressioni che una vicino all'altra scompaio si annullano se mi è venuto così chi l'ha inventata questa espressione mi viene da dire che è sempre un una cosa non reale un entità in qualsiasi caso per per confusione per confondere però chi precisamente mi vengono diverse figure diverse cose dovrebbe essere catullo poeta romano esistito mi viene da dire sì perché la scritta la scritta lui sotto l'effetto sì perché detto come dicevo prima come me l'hai detta ho visto diverse figure che non ho visto mani comunque diverse figure verrà per confusione per confondere ma quale era lo scopo farci cadere in in una situazione di la ricerca di qualcosa che in realtà non a parte che si annullano una con l'altra quindi anche se fosse non ci si raggiungerebbe ma come se non fosse reale come se non fosse reale cioè la ricerca di qualcosa che non esiste praticamente mi viene così va bene parliamo della dell'emozionale del corpo emozionale di paola facciamo un'analisi come prima degli impianti adesso del corpo emozionale vediamo cosa viene fuori alla mista mi sta mettendo una palla davanti sopra questa palla c'è scritti sono scritte delle emozioni che sono quello che dicevamo comunque già solitudine senso di inadeguatezza qui questo mondo e sentirsi non compresa sentirsi comunque come se appartenente a un discorso diverso e però adesso mi è venuto ho visto anche il clone quindi però c'è anche il senso di inadeguatezza lo vedo anche collegato perché l'ho subito vista questa cosa mentre lei me la mostrava al clone quindi è come se comunque lei fosse collegata tanto questa a questo clone clone ibrido insomma che sta su questo pianeta e e quindi viene comunque io credo non lo so mi viene adesso è venuta questa cosa come se a volte sogna questo stando lì realtà ci sta però lei lo sogna consapevole anche di questa di questa di questa cosa quindi vede il pianeta si sente shanna e si sente mi viene da dire sì ora non so in che termini ovviamente poi ha riportato sul nostro corpo fisico però mi viene da dire sì lei lo ricorda e mi viene da dire sì sì e questa cosa è collegata anche alle sensazioni e al corpo emozionale quindi a volte non è del tutto suo ecco cioè è suo in quanto creato da quello che la sua parte subliminale prova lì ma non è qui non è creata d'acqua ecco ok la l'alternanza di uno stato di grande e sprezzante sicurezza alternata piccola insicurezza e bassa autostima a una causa esoterica edl mi viene cioè lei in realtà quello che mi viene è che lei ha comunque consapevole abbastanza e appunto con una bella vibrazione cioè molto bella ecco e le dl la fa sentire il contrario c'è né dl liga da solo vedo vedo una pallina di c'è una forma energetica mezzo adesso sì ne vedo uno solo perché mi ha detto così mi ha comparso che ci sono tutti la cosa strana me ne è uscito quello lì era subito quando mi ha iniziato a dire se c'è la casa esoterica di questa cosa qui poi ne è uscito uno dalla testa adesso uno dalla testa e un altro sulla dal braccio sinistro 3 sono tutti chiedilo a quello più alto di grado in questo momento si chi ti risponde quello della testa quello del braccio del braccio per adora che grado a mi dice di 9 ok quante vite se lo vedi ha avuto paola paola non è particolarmente interessata alle vite precedenti giustamente io aggiungerei però faccio questa domanda proprio perché 1130 milioni ok con le condizioni attuali quante saranno ancora non ho capito bene tutti in più o meno ora di vite precedenti di vite si di vite future future ok allora me ha di sensazione mi viene poche di numero mi viene non mi viene un numero perché poi è come se come se mi viene questa cosa dipende no dipende da lei dipende da quello che lei raggiunge qui adesso e la consapevolezza che avrà come utilizzerà la sua nuova consapevolezza che automaticamente la riporterà su tutte le altre vite passate barra parallele mi viene questo quindi non vedono la risposta e non si sa dipende da lei ok siccome tutto dipende da lei lei adesso cosa vuole fare abbiamo visto che per i soliti motivi ignoti più o meno a tutti noi ha accettato un'interferenza da parte di 3 dl da parte del solito zeus odino dal solito umanoide di turno due felinoidi rettili entità minori non ci interessano ha accettato una serie di impianti ha accettato la creazione di un clone cosa vuole fare allora mi sta mostrando lei sotto la doccia come se si vuole lavare bene lo può fare iniziando torniamo al corpo emozionale dalle emozioni eventuali a bassa frequenza che poi non abbiamo analizzato per via degli edl che sempre confondono i giorni già no mi sono persa scusami mi puoi ripetere perché stavo guardando mi senti e mi dimmi cosa sto ricordando e no stavo guardando allora lei che si faceva la doccia edl che cercavo che girano intorno come se insomma vorressero volessero impedire questa questa sua cosa però lei non non gli importa continua a farsi la doccia però mi infastidivano un attimino stavo vedendo quello che allora di a paola di aprire un portale di mettere subito gli edl che sono l'elemento disturbrante di questa sessione in portale e chiuderlo e via si è messa la cappadoio e l'ha fatto 123 ok nello scarico della doccia che un portale cosa è andato emozionale o entità o impianti ora adesso sto vedendo che si toglie gli impianti si si toglie proprio da sola dal corpo e li butta giù dentro dentro lo scarico della doccia che scendono con l'acqua come se fosse acqua che va via e se li leva e dopodiché riapre la doccia e continua a lavarsi continua a pulirsi e poi adesso ha preso i due felinoidi e li ha messi anche loro due sempre nel nello scarico della doccia che scendono e scivolano via come se fosse acqua ok a livello emozionale ha fatto qualcosa contemporaneamente nel mentre si faceva la doccia lei è molto molto forte il discorso emozionale vedo in comunque molto attivo molto importante sì molto importante per lei infatti ora che diciamo me l'hai detto e la dal discorso doccia era proprio emozionale quindi proprio un discorso di pulirsi a livello emozionale quindi togliere via tutto ciò che non che non è che non è reato e la il discorso solitudine il discorso di sentirsi inadeguata perché comunque in realtà ripeto io non vedo che certo che me l'ha fatto sentire però non non le appartiene no non è una cosa sua no reala stata creata la preparata dalle circostanze da da vari episodi della sua vita il clone ok la solitudine quindi solo solitudine non rabbia solitudine la solitudine mi viene inadeguatezza come dicevo prima il senso di incomprensione il senso di come di essere sola in un posto che che non è che non è in risonanza con lei no rabbia sinceramente non la vedo neanche la paura realtà bassa autostima e la bassa autostima è anche questa è di pesa sempre da un discorso di è come se adesso mi viene questo gli edl che ha già allevato e non volessero che lei fiorisse ecco perché ha un grande potenziale certo per me ha un grande potenziale cioè vedo quando ma vedo che comunque lei è brillante e sorridente come se avesse un approccio alla vita comunque in realtà positivo e quindi questa cosa dà fastidio a loro no perché la vibrazione alta se no li manderebbe gli allontanirebbe non gli permetterebbe di di agire come prima va bene creiamo un nuovo portale un nuovo tipo il portale definitivo portale definitivo non ha bisogno di spiegazioni nella parola stessa si capisce che il valore del portale ci metto cose che non mi interessano più e che chiaramente sono forme energetiche che non possono venire distrutte ma scompattate all'infinito e rese innocue si ok diciamolo di aprirlo diciamole di aprirlo di mettere tutte le entità che finora non abbiamo ancora analizzato dovrebbero essere andati già i edl mettiamoci tutte le entità tutti gli impianti il clone gli impianti lavaggi alleva di prima con con discorso della doccia e gli edl già la vanessi prima adesso vedo che entrano anche altre altre cose che non abbiamo nominato come se vedo un tipo una sorta di nuvola nera che che racchiude diverse situazioni diverse diverse entità diverse cose che forse appartenevano anche a abite passate diciamo che hanno interagito con lei e vedo questa nuvola nera che entra dentro questo vedo come un vortice l'ha aperto di vortice senza analizzarla sono entità demoni capi sottoposti chi sono cosa sono allora vedo navicelle spaziali che entrano dentro esseri ora che mi soffermo li vedo meglio esseri che come se lei l'ha affermati per farmi vedere quindi come se fosse tutto più a rallentatore adesso e degli esseri verdi di porani e giganti non lo so anfibi poi mi fa vedere il clone che lo butta lì poi vedo da li vedo come gatti che in realtà sono felini felinoidi rettili dinosauri vedo così non sono i grandi molto interessante che adesso che stiamo buttando tutta questa bella roba e la nuvola nera paola è tornata il se bloccato il computer il mouse tutto quello che aveva leste bloccato fantastico va bene sono solo entità quindi sentiamo abbiamo visto che sono entità di altre vite precedenti stiamo pulendo tutto a paola poi vedrai il video non ci siamo fermati appunto perché ok dimmi quando è finito quando il passaggio è finito ma non chiudiamo il portale definitivo ok ha fatto non lo chiude andiamo al cluster a vedere se ci sono dei contratti che hanno generato questi presupposti scusami che succede eh non lo so allora allora anche lei mi prende per mano e andiamo insieme l'accompagno e arriviamo in questo posto dove c'è una libreria una grande libreria altissima e piena di libri piena di libri sì tutti i suoi allora mi viene questa scena sì e no nel senso come abbiamo detto tutti i suoi e come se lei si gira mi fa vedere altre altre persone come se ci fossero altre persone lì ok in questo questo posto allora adesso io conto fino a tre altre scompariano tutti i libri che sono delle altre persone restano solo quelli di paola 123 ok mi rimane rimane soltanto un armadio un armadio con tutti i libri compattati e adesso mi dice questo è mio ok le altre persone che sono nel cluster con con paola possono prendere esempio da quello che fa paola e farlo fare la stessa cosa che sta per fare paola quando quando esse vorranno cosa fa paola su questi libri alla prende una scala di quelle di ferro e inizia dall'alto si sale su e me li tira tutti giù e tira tutti per terra e si fa una sorta di montagna poi scende li tira quelli più bassi e si fa tutta una sorta di montagna di libri per terra il portale definitivo lei lo può prendere come un hula hop con un disco vuoto chiaramente e spostarlo in qualunque posto della scena per esempio sotto la montagna dei libri così fa prima ok è un suggerimento quando l'hai detto visto proprio che prendeva così come come lula hop lo metteva sotto e adesso stanno scendendo tutti giù velocemente ok e lei è curiosa adesso vedo che guarda dentro vuole vedere quello che succede che succede che va tutto via però era curiosa visto sta scena dove lei praticamente smette in ginocchio mi dice guarda voglio vedere ok chiudiamo il portale definitivo ti faccio prima una domanda prima di andare all'avatar su il cluster ci sono persone della vita vicine alla vita di paola che sono lì nel stesso stesso cluster che evidentemente avevano dei libri mamma mia ne so se una sorella viene così fratello sorella non so se c'è fratello no ok no ma non c'è più ok però c'era fratello poi vedo mi è avvenuto così una sorta di amica di adesso di questa vita una persona molto collegata a lei mi viene presso andiamo tutti insieme appassionatamente all'avatar allora prende sempre riprende la stessa scala che ci aveva nel cluster e si arrampica sale sale e sale su sale su e arriva in un posto lo vedo così sulle nuvole come se fosse proprio fuori da l'inizio l'inizio di tutto mi dice così questo è l'inizio di tutto e c'è questo essere come lo vediamo di solito tipo pupazzetto diciamo che sta su questo computer che scrive che in questo momento però si ha accorto che che arriva da lei quindi la vera lei è un attimo si alza del tempo spaventando mi viene così vedo questo qui è tutta roba artificiale sono tutte costruzioni un programma quindi questo lo sa paola quindi diamo dirti appunto allora adesso si sia di lei vedo che inizia a scrivere lei adesso vedo che mi fa vedere che scrive mi viene vedo che scrive io devo trovare la mia dimensione no che lo fa conservando il fantoccio al computer o eliminandolo allora prende il computer e lo chiude ha scritto questa cosa e lo chiude e lo cartocciano e al computer che il che l'avatar la cartoccia diventano mi fa vedere due palline tipo di alluminio e poi le prende e li ributta le butta via le butta vedo che apre un portale mi fa vedere benissimo butta via e richiude e vedo lei che cammina tra le nuvole mi mostra questa scena adesso mentre lo fa si lasci un messaggio di parte subliminale parte eterica a paola direttamente nella sua stanza con sullo sfondo una scala di legno a scala è stata protagonista di questa sessione allora mi dice sì la scala importante la scala importante per te perché tu puoi salire in alto e adesso lo sai non aver paura di di scalare la tua montagna puoi raggiungere grandi cose tu puoi non permettere di farti condizionare da niente da nessuno tu sei capace se è importante e se speciale la scala sarà il tuo simbolo per ricordarti che mettendo i piedi sopra i pioli puoi salire più in alto e volare tra le nuvole e da questo momento la scala e la nuvola e l'essere leggero ti accompagneranno poi mi dice di lasciar fluire di più le emozioni di non aver paura a provarle mi dice così basta ok a quanto vibra paola adesso erano 500 milioni miliardo ok il doppio tanto a quanto sta ps e p e prima era 30 70 gli anni 47 quando sette la p e no 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 vedi un numero di eliche del dna eterico mi viene 4 ok ed in generale come la vedi paola adesso sta ballando adesso balla vedo che balla e che e che è contenta mi dice adesso capito un po' di più con queste nuove condizioni facciamo un esempio solo su tutti l'allergia ai gatti potrebbe migliorare o scomparire secondo me sì se riesce a gestire la sua parte mentale di non condizionarsi noi ci siamo dimenticati chiamiamo diciamo in prima persona si faccia avanti la mamma che ha ascoltato è stata tutto il tempo là con questo mattarello e adesso mi mi fa vedere i tortellini che ha fatto lei la mamma è collegata alla terra a qualcuno conosciuto in questa questa sua vita parla per esempio ma lei mi dice che accontenta che comunque già sta da un'altra parte è già andata da un'altra parte lei però mi dice mi mostra una cucina dove fa la pasta non lo so perché tutto il tempo le mostra questo posto dove dove fa i tortellini fa la pasta in casa vedo che fa la farina le uova e c'è un adesso ho visto anche un fazzoletto in testo tipo con un grembiolino un pochino la vedo più vivida e mi mostra a sto posto questa sorta di cucina dove lei dice che qui fa quello che gli piace ok mai sulla terra no ok è collegata a persone cose animali luoghi terreni mi dice io soltanto bene qui adesso questo è il mio il mio percorso io li ho finito mi fa e poi mi dice mi dice di si rivolge a paola dicendo che lei è contenta e dice io sto bene sono contenta e adesso sto qui qui sto bene stai stai tranquillo sto bene ho trovato il mio percorso io va bene prima di salutare la mamma le offriamo un tortellino prodotto in casa da da noi da me e dentro se lei lo vuole mangiare c'è tutta l'informazione trovata insieme alla mia ricerca se lo mangia vediamo cosa ha già mangiato ha già mangiato allora l'ha mangiato e si è trasformato in una farfalla adesso vedo una farfalla grande una farfalla grande che che vola più in alto di dove sta adesso andando più in alto vedo proprio che babbia come se vola più su dove dove vuole dove vorrebbe andare è una monarch si sentono dei rumori strani non capisco è una monarch è una cavolaia è una farfalla di un certo tipo vedo una farfalla tutta colorata tutta con le ali piani di colori grande però grande con le ali colorate prima si sentivano dei rumori come di gente che parla sentite anche tu qualcuno da te no no però sentito però chi chi era e niente a me mi arriva sempre sta guida che arrabbiata con noi ma chi se ne frega l'acqua va bene va bene la mamma la salutiamo le chiediamo gentilmente di aprirsi una porta un portale e di andare direttamente nel posto in cui vuole andare verifichiamo che non si siano presentati altri disincarnati visto che prima hai visto forse padre padre già marito o il padre di paola ok padre che fa e allora vedo che vorrebbe ci ha detto questo dinosauro davanti e lui che vorrebbe venire a venire ma il dinosauro lo contrasta ok quindi quello che vedevamo prima all'inizio era il papà e c'è un tortellino anche per il papà il papà deve soltanto scavalcare il dinosauro per volerlo volerlo e mangiarsi il tortellino allora lo guarda mi dice e adesso che faccio io ma l'ha sperato il rettile si è assuperato e ha preso il tortellino da te però mi dice adesso io che devo fare mangiarlo cosa si fa quei tortellini si mangiano è però mi dice io ho paura sono più scettivo io di nomi va bene se lui ha paura lo lasciamo nella sua paura e vivrà nella paura insieme al rettile ci vuole lasciare no li vuole andarlo via rettile dice che non gli permette di andare dove lui vorrebbe andare ok ma lui vuole la paura e il rettile e la paura sono la stessa cosa invece del tortellino però dice che gli piacciono più dolci a lui quindi questo tortellino si è trasformato in un dolcetto adesso sì e adesso lo stanno mangiando e l'ha mangiato che fa allora stavo infatti guardando il rettile a tipo quando li ha mangiato il pasticcino sia tipo cascato sotto il pavimento e non c'è più immediatamente adesso l'incomincia a camminare è vestito una camicia da da campagnolo tipo a quadrucci si prende una zappa se la mette su su una spalla e poi saluta e dice adesso vado a me piace la terra lui è collegato alla terra pianeta mia dire di sì a cosa a chi o a quali luoghi viene da dire la casa dove abitavano quando quando era qui si vuole andare a zappare la terra sereno e felice e non generare problemi a chi ancora qui si deve staccare da tutto ciò che è terreno definitivamente riprendere tutti i residui energetici che ha lasciato qua e portarli in campagna dove vuole andare sta andando ora vedo che fa così come se che taglia come dei collegamenti e poi vedo che saluta stacca tutto e cammina verso una sorta di distesa di pianura di terra con l'azza per mano e va staccato da tutto sì ho visto proprio che taglia come se tagliasse dei fili c'è avuto una scena di lui che tagliava dicevo ok io adesso devo andare perfetto bene ultima immagine di paola sta ridendo e balla ride balla e poi mi mostra questa scala di nuovo la scala dove porta la scala è una scala pioli si è una scala di un palazzo no no pioli sì sì è la porta in una in una nuova emotività non lascia affluire di più emotività le sue emozioni di alta frequenza si lascia un pochino più focalizza l'attenzione perché lei come se adesso prende la scala dice vedi se io salgo qui da qui vedo vedo cose più belle sono più su io adesso vedo le cose in maniera più in maniera più alta quindi una visione diversa da una posizione più vantaggiosa perfetto benissimo pieno successo ottimo quindi sabrina disconnetti ti adesso da tutto e tutti e noi torniamo rispondenti completamente preparati a tornare ciao ciao preparati a tornare e senti mentre conto da 1 a 5 che piano piano il tuo corpo diventa sempre più leggero 1 al tuo corpo diventa appunto sempre più leggero e si ricarica subito hai speso dell'energia la recuperi con grandi interessi lo dici di tu quale è la percentuale degli interessi il cento per cento il 200 per cento il 10.000 per cento non esageriamo sennò poi non dormi questa notte ma due senti che il tuo corpo si ricarica si alleggerisce insieme dai piedi alla testa istantaneamente si ricarica e di frequenze di frequenze di gioia di tranquillità di serenità di forza 3 e si illumina si illumina tanto da illuminare quasi a giorno la tua stanza è sempre più leggero tanto da fluttuare quasi sopra il letto 4 sempre più ricaricata sempre più felice serena galvanizzata e 5 apri gli occhi ecco sì giorno come stai bene 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 tutto posto sì sì ok perfetto bravissima paola che ha disattivato il tuo attivato che un microfono la risentirà e nel nel video tranquilla sono state dette adesso sinceramente quello che hai perso quello che non lo ricordo però state dette delle cose molto importanti da dal fatto che hai un livello molto alto c'è molto alto e che questa cosa ti perché hai fatto oggi ti permetterà di andare oltre adesso al di là delle allergie che uno può superare o non superare questo dipende da tanti fattori che una ipnosi non si fa per l'allergia penso però è interessante perché vedi si riallaccia a poi alle entità e permette in modo agevole di scovarla l'entità no ma la cosa più importante per te forse è proprio la tua evoluzione spirituale quindi la tua evoluzione interiore e questa adesso ha una marcia in più a come la sesta e la settima diciamo quindi quindi sono contento sono contento anche non succede quasi mai che si presenti un disincarnato che di fatto non abbiamo chiamato non so niente di tuo papà ma volevo dirti la scala che continua a comparire io arampico ecco e il papà a si aspetta torna non sono il papà che ma che è deceduto già da tanti anni vestiva sempre la camicia quadri era la sua preferita un po da boscaiolo gli piaceva la natura quindi torna anche ok quindi la campagna alla natura la mamma faceva la pasta che tu diceva per lei l'amore per la famiglia era il cibare preparare da mangiare per lui se per lei se avevamo tutti da mangiare la famiglia era unita no era un po una cosa simbolica per le notti che poi sono tutte cose simboliche va bene va bene circa la pubblicazione poi mi fai sapere come ti vuoi muovere magari chiudiamo qua di test non è venuto fuori niente di scabroso insomma per me va bene lasciamo tutto aperto quindi come viso e come la scabroso non è venuto fuori nulla al seno è molto bello vedere anzi il tuo viso che annuisce in alcuni punti che adesso io non ricordo neanche già più ma va bene così è bloccato tutto io c'ero no è scomparsa la tua immagine poi in registrazione non lo so se la tua immagine bloccata o tu scompari questo lo vedrò adesso mi sono segnato i tempi lo vado a vedere comunque lasciamo la tua voce quindi anche questa parte e lasciamo il tuo viso va bene restate un attimo restate un attimo in linea e fermo solo la registrazione ciao a tutti grazie